Paola, come posso superare il conflitto tra ragione ed emotività? Ciao, bella domanda. La coscienza deve sì, valutare le conseguenze del prima e del dopo. Ci dice che dobbiamo stare attenti. Però stop. Perché la ragione serve, ma ci deve lasciare vivere. Se ci affidiamo solo ad esse finiremo per paralizzarci. Si deve avere la responsabilità di lasciare un po' il controllo alle emozioni, sapendo di correre il rischio di poter farci tanto tanto male o anche tanto tanto bene.